ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video come avete letto dal titolo oggi farò 24 ore da andrea presti perché non lo conoscesse andrea presti quest'anno è stato uno dei 20 migliori atleti al mondo visto che è andata all'olimpia oggi in questo video me l'enerò come lui mangerò come lui partiamo subito dalla colazione che questo sarà il pasto pre workout andrea si fa delle uova albume e del pane sopra il pane poi ci mette sempre un po di marmella tahiro diamo la preparazione spiegati utilizzare le uova quindi non albume per problema digestivo io non avendo problemi digestivi e non volendo neanche sprecare i rossi andrò a utilizzare sì delle uova ma poi aggiungerò dell'albume come andrea intanto che si scalda la padella vado a prendere la mia integrazione mattutina quindi multivitaminico omega 3 vitamina c e vitamina d ovviamente utilizzo bulka per tutti i prodotti e link in descrizione a primo pasto di questa giornata finito ora tra un'oretta un'oretta e mezza sarà in palestra faremo il workout di andrea frattempo mi approfitto di questo diciamo un retta buca per lavorare un po al pc anche andrea come me è un personal trainer quindi in questo diciamo nel simulare il lavoro non sarà difficile ok siamo arrivati in gym ora partiamo da riscaldamento blando poi iniziamo quel workout di andrea che è tosto allora andrea come primo esercizio fa delle spinte in alto su panca con manubri partiamo facciamo una serie d'avvicinamento e poi partiamo col carico diciamo col target lui fa quattro serie tra le otto e dieci colpi quindi direi di prendere i 14 siamo con le serie ufficiali l'utilizzava solo doppio e un triplo del carico però per me dire che va bene andrea come secondo esercizio fa delle alzate laterali con i manubri abbastanza pesanti e abbastanza anche leggermente citate e sta tra le 12 e le 15 ripetizioni direi di prendere un 16 dai ma qua ho messo un pre-workout che è di bulk ed edizione limitata con i millions gusto cicca da masticare diciamo che non mi fa impazzire sa proprio di cicca il terzo esercizio della routine di andrea presti lui fa un lento indietro da multi power io lento indietro non riesco farlo perché ho un problema la spalla quindi lo farò avanti comunque l'attivazione muscolare è molto simile carichiamo i dischi e partiamo faccio il grosso vediamo se ce la faccio questo è un po che non lo faccio provate a caricare un 20 vediamo come va buono ce l'ho fatta lui comunque sta sempre tra le 8 e le 10 ripetizioni anche qui faremo 4-7 non sa mai che magari andrea guarda questo video poi facciamo un workout assieme vado da lui a bergamo quarta esercizio di questa routine alzata la terra al cavo per avere una tensione continua lui sta sempre tra i 12 e 15 rap ok ci spostiamo andiamo lì dove c'è il cavo basso e dobbiamo fare un esercizio che sono alzate frontali quindi faremo alzate frontali con la corda però di sedi su una panca quindi prendiamo la panca ammetto che è la prima volta che faccio questo esercizio ho settato la panca anche qui andrea sta sempre sui 12 15 colpi si sente però si sente si sente questo come ultimo esercizio di questa routine andrea passa alle spalle posteriori e fa delle alzate posteriori si fa anche inchinata ovviamente con i manubri anche qui 12-15 rap non si sente questo post workout siamo venuti al supermercato perché dobbiamo comprare cose che mangia andrea mangia cose molto basic alcune anche simpatiche andiamo la cosa simpatica il succo perché andrea mangia i cereali nel succo dopo vedremo come sono ovviamente petto di polo non può mancare per andrea spesa fatta ora andiamo a casa facciamo il pasto post workout andrea presti divide il suo puntino post workout in due pasti il primo pasto frostis mi fa morire che c'è sopra l'animalotto il tigrotto frostis e li mangia con il succo d'arancia parte del pasto fa un frullato con banana mela proteine in polvere ovviamente io utilizzerò quelle di bulke senza gusto isolata al 97 così che sento il gusto della frutta utilizza latte di riso ma ne mette poco perché già c'ha i liquidi del succo quindi per non riempirsi come una botte quindi prepariamo il tutto ma non è anche male ci sta bello zuccherato assaggio subito il frullato così poi possiamo anche chiudere la clip e finisco il pasto forse non è tanto cioè non è molto liquido fluvio che non ci ho messo tanto latte si sente molto la mela la pastosità della mela però no bad non male finisco questo pasto e poi vado a docciarmi che dopo allenamento bisogna farsi anche una bella doccia allora doccia fatta ora sono al computer e sto facendo un check con il mio cliente andrea presti lavora molto nel mercato online io diciamo che lavoro più nel mercato one to one in palestra infatti lavoro in fit active a segrate e però comunque ho anche qualche cliente online ad esempio gian abita a londra sei partito a un peso di? ero 60-61 circa ok e adesso siamo arrivati a un peso di? 72 però non diciamo aumentando massa grassa comunque gian da quando abbiamo iniziato ad adesso non è che ha avuto questi grandi momenti di stop ovviamente c'è stata lì ferie di mezzo ma sono cose di uno due settimane proprio il resto si è sempre allenato con impegno mi ha sempre aggiornato gian è uno di quei clienti che comunque non serve che lo tartasso so che fa il suo senza che gli rompa le scatole diciamo che è il cliente che tutti vorrebbero avere per pranzo il mitico andrea presti si mangia pasta di kamut petto di pollo pomodorini avocado e olio ora concludo qui il mio pasto il prossimo pasto lo faremo direttamente in palestra sono le 4.45 faccio ora lo spuntino con Brediano che avrebbe fatto Andrea all'interno di questa bellissima ciotolina abbiamo del couscous sempre il solito avocado pomodorini e pollo easy ma efficace ora finisco il pasto allora sono rientrato a casa dal lavoro sono uscito a fare un paio di clip come avete visto siamo arrivati al momento della cena che è l'ultimo pasto che fa Andrea Presti almeno dice in quel video dice che a volte capita che magari fa uno spuntino il turno con proteine e avena però in quel video finiva con la cena perché una cosa che dice lui è che non è un gran mangione non si direbbe la massa di muscoli che ha messo su a cena lui mangia hamburger carne macinata mangia zucchine come verdure come carbo mangia riso e gallette di mais ed ecco qui il nostro ultimo pasto della giornata questa giornata dimostra un po' che non c'è nessun trucco come abbiamo visto l'allenamento di Andrea è un allenamento molto semplice nel senso semplice non si inventa cose strane come spesso si vede per forza perché bisogna per forza inventarsi la piccola variante esercizi diciamo che si conoscono e si ammazza su quelli carica 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 stessa cosa per quanto riguarda il cibo siamo arrivati alla conclusione di questo video innanzitutto spero vi sia piaciuto ho cercato di portare la qualità un po' più in alto con fronte al solito chiamando il videomaker stamattina che mi ha aiutato con delle riprese che ringrazio ancora io vi ricordo iscrivetevi al canale che per voi è una sciocchezza se voi mi iscrivo o non mi iscrivo o guardo comunque i video anche perché il 50% di voi più o meno che guarda i miei video non segue in realtà il canale però per me è importante perché se il canale cresce io cresco quindi riesco sempre a portare la sticella sempre più in alto perché posso investire più budget nei video è fondamentale che vi iscrivete quindi iscrivetevi ora lasciate un like e un commento se il video vi è piaciuto se volete che faccio altre sfide nelle 24 ore lascia la hashtag farne altri e magari iscrivetevi al personaggio che volete che replico nelle 24 ore io vi mando un bacione e ci vediamo in un prossimo video bye bye iscrivetevi al canale